eccoci qua siamo venuti a trovare tequila ce l'hanno data e adesso vi facciamo fare un po di passeggiata qui fuori camilla è contenta che la rivista perché sarà entristita insomma adesso sarà qui pure stanotte vediamo un po domani come va stata molto contenta che ci ha visto vedi adesso la portiamo sul prato così che facciamo la passeggiatina sembra che stiamo passando l'aspirapolvere va a questo coso guarda stiamo a passare l'aspirapolvere povera questa sta così da quando siamo rientrati cioè ha capito tutto quando ha visto che noi lasciavamo tequila lì non ce la portavamo dietro è diventata uno straccio guarda sta così con gli occhi chiusi sul divano poi dice che gli animali non hanno i sentimenti eccola qui tequila è tornata a casa eccola è rientrata è rientrata e di là la zampa che le fa male è questa l'hanno tastata non c'è niente di rotto vedi eccola qua questo adesso vediamo come si comporta con la scatoletta adesso le stiamo per dare da mangiare eccola guarda come ha ritrovato l'appetito bastava una piccola punturina di antinfiammatorio un cane rinato ecco tequila che scodinzola un pochino la zampa sempre così purtroppo ormai questa andiamo dentro vieni dai andiamo nella cuccia brava guarda quanto è brava brava dai nella cuccia tequila brava guarda quanto è brava forza tequila che ce la fai levali tu da qui dai vieni amore dai dai tequila che ce la fai brava quante brava sta cagnolina dai andiamo dentro uno due piatti guardate come c'è la palla bravissima eccezionale guardate un po chi si è alzato ciao cara tequiletta sentito il rumore del microonde vedi più interessata al microonde che a pier giorgio ecco arrivano le pappine ecco qui pappine pronte ma la vediamo se vediamo un po pappine pronte eccola qui cianchetta ecco cianchetta guarda cianchetta amore cianchetta a posto uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci massaggio a posto vediamo un po oh vedi che l'appoggi ah vedi che appoggi la gamba brava tequila è brava questa cagnolina vediamo un po fai qualche passetto che brava guardate un po che appoggia la gamba per terra brava la pisellina tequila fagli un po vedere che un pochettino l'appoggi fai vedere guarda guarda ma guarda un po che quasi quasi ci cammina rifacciamo fisioterapia amore mio è stato grazie alla fisioterapia che pier giorgio gli fa quattro volte al giorno fisioterapia due due tre quattro e cinque che brava vieni tequila andiamo andiamo in cucina a mangiare dai dai andiamo eccoci tequila con la zampetta che l'appoggia abbastanza bene quindi si sta riprendendo anche se ci vuole molto tempo molta fisioterapia però i risultati si vedono noi siamo felici anche così ed eccoci qui che è tornata nuova come prima anche più bella e più in forma siamo al mare si lo sta godendo tutto sotto l'ombrellone con la sua acquetta questo è il suo piedino totalmente guarito eccola qua guardate quanto è bello grazie a tutti